che bell'aria qui in Svizzera, Pietro! bello posto! bello posto! guardate che panorama, la Svizzera, la terra del cioccolato! bello posto! bello posto! guarda che cioccolato, Pietro, sta accadendo! fate attenti, state attenti, che secondo me è cacca, altro che cioccolato! ma qua cacca, questo è cioccolato! ma Pietro è buono, questo è cacca! ma che lei è così perfetta, non riesce a fare così! ma non può essere cioccolato Pietro! Pietro non è cioccolato! ma che fai Pietro? e allora? qui è merdovera me!